Chiara, c'è un rituale Rituale composto di tre step Il primo, giriamo la chiave Fino in fondo E rimane girata Brava, così Noi siamo neutro e c'è che ok Secondo step, schiacciamo il freno E il terzo step, schiacciamo il tasto Forte però Si è acceso, vero? Wow Ok Come ti dicevo, noi siamo neutro in questo momento La freccia è qui dietro nascosta, l'hai vista la freccia? Questa Esatto Da che parte andiamo? Andiamo a destra Dunque, siamo neutro però in questo momento Dobbiamo mettere prima Quindi freno e freno Esatto, ok Prima possiamo soldarare il freno La macchina non parte Ti metto giù io il freno a mano E facciamo freccia a destra Sento ma non la vedo Si, ok Ma sentiamo, vero? Di qua, quando c'è lo spazio Possiamo partire Possiamo andare Possiamo andare Mi segnala? No, siamo più, il sensore non ci preoccupare Il sensore Sei Ferrari, Chiara Eh sì Infatti E' quello il problema Non c'è problema, anzi No 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 Noi andiamo dritto in questa rotonda Quindi la faremo Scusa No, figurati Tranquillo Sempre larga Due mani per oggi, vero? Ah già, è vero Ok Scusa Sempre larga Benissimo Eh, ottimo 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 Vici Sì Ecco, vedi Il mio cuore sta andando 10.000 Perché dire mille e poco Mille e poco Bene Vedo il rumore che c'è dietro Sì È quello che mi piace Perché non mi piace Vai Questo paghetto dirà come sei imbranata No, non ti preoccupare Ti sei in Ferrari oggi Non ti preoccupare Allora Andiamo dritto in questa rotonda Ok Vediamo larga Un po' larga Bravissima Bravissima Anche allora rientro Bravissima Perfetto Dai com'è, vai Non è così Bravissima No Sembra Un go-kart Sembra un go-kart Sì Sembra un giocato Non vuoi Sì Bellissimo Allora Vogliamo andare un po' Sulla superstrada O no? Cioè infatti no Ma sì Proviamo Proviamo Ok Sono temeraria Oggi Dove andiamo? Quindi andiamo dritto Su questa rotonda Sempre larghi Bravissima Anche al rientro Perfetto Perfetto Chiara E adesso usciamo qui a destra C'è una segnaletica a como Ok Quindi verso como Usciamo Perfetto Perfetto Sì perché io sono una Dalle curve strette Sì Sì Dicevo Da tuo profilo un po' Da quella che taglia Invece Oggi no Oggi due mani E senza stare le Lecce Si può Entriamo in superstrada Ok Va bene Allora Con calma Quando c'è spazio Entriamo C'è spazio Sì Bene Mettiamoci a sinistra Un po' Ancora no Perché c'è la macchina Andiamo a denti Un po' Brava E' già salita così tanto E io Andiamo a sinistra Ce la facciamo Sinistra Oppure no Facciamo così Stiamo qui Sì Siamo in terza Accendere un po' Vai 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 Senti che bel rumore Basta vega Quello l'avanzo Benissimo 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 Ma sto siamo arrivati Siamo andati qua piano Quelli dietro mi prenderanno in giro Ma no Che un po' Che un po' Assolutamente Che marcia lunghe Che ha Dalla Prima La terra Allora Qui a Usciamo a destra Ok Dove c'è Vovisio Ok Conosci la zona più o meno No Più o meno Ok Vovisio mi perdo sempre Ogni volta che vado Ah va bene Ok Tanto noi usiamo solo per fare Il ritorno Sì Per andare indietro Va bene Quindi devo andare a destra C'è la Rogonna Brava 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 E' molto male C'è il vero precedente Ma posso andare Bravissima Hai visto com'è facile Sì Sì Alla fine Sai cos'è L'idea L'idea di dire Sto guidando la Ferrari Lo sai veramente Questa è vera però Non è che Il mio modellino Che ho In cucina No no Gliela devo portare Perché c'è una bambina Ah sì Ah di tre anni Ah però Perché non l'hai portata Cavolo No Fai dritta Sì Sei fatto Non potevo A parte che è malattita Stava con Vanessa Stava di un po' No Beh no Doveva venire con me Poi doveva guidare insieme Ah posso Perché lei Su papà Guida Cioè Come si dice Cosa fa lui Fa il gommista Ah ok Quindi lui è abituato a guidare le Ferrari E' abituato relativamente Sì 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 Si conosci Esatto Ha già provato Io invece È la prima volta Va vedi Si vede Qua facciamo destra Sì Sempre lato Sì no Ormai ho capito dove siamo E quindi toccava a te questa volta Dai Eh Direi di sì Mica solo agli altri Sono io l'appassionata poi Eh così Allora I miei modellini Pensa che quando ero piccola Mio papà mi diceva Io lavoro per comprarti la Ferrari A 21 anni Posso andare di là Proviamo Sì vai A 21 anni ti compro la Ferrari Poi non è riuscito Vabbè Ok Però via caut Cioè per altri motivi Sì Però Vabbè La più uscita è che c'è Amarello Quindi Mettiamo un po' vai Freniamo un po' Mettiamo quinta marcia Quinta marcia di qua a sinistra Ti lo devo far tirare un attimo Eh Lo devo far tirare un attimo Tirare dove? Dove devi far tirare un attimo Ah tirare Vabbè Ok allora ti preoccupare Non troppo perché Va bene va bene va bene Ah mi hai messo l'assetto sportivo Sì Prima c'era il ghiaccio Prima c'era il ghiaccio sì Sul tratto urbano il ghiaccio è più sicuro Ok sì perché con più tempo Non succede niente Questo orario è un po' particolare perché c'è tante macchine Con la mia io sarei già a 150 all'ora Lo so Lo so Ma con questa Facciamo sinistra un pochettino Se ce la facciamo Così abbiamo un visuale migliore per entrare Ah ok E andiamo a sinistra E andiamo a sinistra Facciamo il Burger King di là L'uscita di là Ah ok Capito? Perché ghiaccio? Perché siamo in tratto urbano Infatti mi domanda Il mio fidanzato Ho accelerato troppo Hai ragione che Hai capito perché? Certo che ti fidi tu No ma sai alla fine con il briefing Che faccio teoria con la gente Con la chiacchiera che abbiamo prima Capisco un po' i profili no? Beh io faccio ingegnere Non faccio psicologo Ma capisco un po' i profili E da lì Vedi un po' come si comporterà Con quella persona Io sono stata brava Sì sì Quasi brava A parte adesso No ma capito Cioè Io metto appunto Perché è normale Così come sei arrivata a te Che la gente chiede Che la macchina è difficile da guidare Sia un po' ingestibile Invece non lo è Ovvio che è l'entusiasmo Dall'inizio Sai qual è la mia paura? Avere in mano un gioiellino Del genere Capito? Sempre come ci tengo i Sai che è la prima volta che Ho toccato una Ferrari Tutta la sera non mi sono più lavata le mani Vado dritta? Vado dritta sì Non mi sono più lavata la mano per tutta la sera E mi sono messa a piangere così Devo poi cancellare dal video dopo questa cosa Adesso oggi ce lo saprà No ma tanto lo sanno tutti ormai Scherzo Scherzo Ormai lo sono tutti guarda La mia passione Ecco perché questo lavoro è un lavoro bello Perché lavoriamo con l'emozione della gente C'è una passione C'è chi può pensare che sia Fuggi ma io invece ci credo davvero che è un bellissimo lavoro Per queste cose qua E certo perché uno sente tutte le emozioni Sente vedere e sperimenti facili per la gente E quando sarei Cioè io mi immagino a mia faccia vista nel video Sarò in Asia Non ti preoccupare Sarai bene Dove siamo? Noi siamo subito dopo questa rotonda C'è il bar Ok Quindi andiamo dritto Ah sì Qua vero? Esatto No di là I tendoni maroni Vedi Qua a sinistra Mettila dritta direttamente Che dopo ci penso Ci penso io poi a manovrare Non ti preoccupare Ok Ecco va benissimo Perfetto Adesso? Adesso basta che ti vedi la chiave Ah ok Com'è andata? Bene Oh no lo tolta Me la volevo portare a casa Me la volevo portare a casa Mi ha beccato Ho tolto la chiave per portarmi la carta Aspetta che faccio un'altra Anche con lui Anche con lui vai Ah c'è l'ombra Peccato No Così Faccio una così anche Belli Bene Bene Il grande sì Bene 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 Bene